Nicola Terranova in nomination per il premio di miglior allenatore nei Penalty Awards 2019, concorso ideato da Ettore Tortorici, giunto alla sesta edizione, che assegna riconoscimento al miglior tecnico, ai migliori giocatori e al miglior presidente di società. La manifestazione in programma lunedì 3 giugno al Teatro Garibaldi di Enna con inizio alle 17. Tre nomi importanti, tre top assoluti per quanto riguarda la categoria allenatori nel campionato di eccellenza. Il tecnico del Canicattini, Nicola Terranova, è in corsa per il premio di miglior allenatore da come concorrenti Giovanni Campanella, che alla guida della panchina delicata ha vinto il campionato di eccellenza Sicilia a Girone A e il mister del Marina di Ragusa, Salvatore Utro. Ma non c'è solo Terranova in nomination. Facciamo le nomination presentando la categoria eccellenza e lo facciamo subito con le nomination quale miglior portiere appunto del campionato di eccellenza. Alla sezione miglior portiere pronto a ricevere il premio c'è il numero uno del Canicattini Calcio Pietro Iacono. Anche in questo caso la concorrenza è agguerrita perché Iacono dovrà vedersela con Gabriele Ferla del Palazzolo e Virgilio Vitale del Biancavilla, la prossima squadra avversaria del Canicattini. Decisiva ai fini dell'assegnazione del premio a miglior portiere potrebbe essere dunque la gara di andata di domenica prossima 2 giugno all'Orazio Raiti che vedrà da un lato Pietro Iacono difendere la porta del Canicattini e dall'altro Vitale a guardia pari del Biancavilla. E adesso quelli che fanno i gol, le nomination degli attaccanti. Nomination come miglior attaccante anche per Angelo Caronia. Il premio per Caronia andrebbe a coronare una stagione esaltante per la giovane promessa del calcio siciliano. Caronia dovrà fare i conti con Antonino Cannavoda in Licata e con Roberto Cortese del Palazzolo. E chiudiamo a questo punto questa categoria presentando le nomination quale miglior dirigente appunto del campionato di eccellenza. In nomination per la categoria dirigente è anche il presidente del Canicattia Angelo Licata. Il massimo esponente del sodalizio canicattinese concorre con Claudio Cammarata, dirigente dell'Icata Calcio e con Cesare Sorbo del Marina di Ragusa. Dunque facendo i calcoli la presenza in nomination del dirigente allenatore e due giocatori del Canicattia altro non è che un motivo di orgoglio per la società biancorossa che quest'anno è stata capace di fare un sol boccone di Sant'Agata e Dattilo. E senza passare dalle forche caudine degli spareggi di Girone si è classificata direttamente ai play-off nazionali. Il Canicattia ha già superato la prima fase ed è pronta ad incontrare in doppio scontro il Biancavilla per accedere alla Serie D. E domenica ci sarà il primo atto.